E' la pulirsi gli stivali, il cifone, è la che si pulisce gli stivali. E' lì, quella posizione è lì e pulisce gli stivali. Scendi! Perché non c'è qua neanche un sasso. Scenditi lì! Deve gridare aiuto! Te ne vai! Prendila, aiutami! Portala su, portala giù! No, che portala su da qua? Sei pazzo! Non cazzo fai se divisi da qua, con questa! Ma che interessa! Non riuscirò mai da qua! Non riuscirò mai da qua! Giù, 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 giù! Andiamo! E questo? No, o cazzo! Non cazzo fai! No! E l'ho mai riuscita! Non cazzo, non cazzo! E non cazzo fai! ma c'è un manubro tutto avanti, tutto storco ma vada via il culo che cazzo di cosa, non tiene dietro non tiene, non stacca la frizione ma crispa cioè vai dove gli stacca la frizione come cazzo deve fare gli dare ecco perchè guida così ecco perchè guida così la guida ragno la mia non trial come si è comportata bisogna parlare insieme alle monti io devo mettere dentro la busta per appesantirla davanti è troppo leggera davanti è troppo leggera certo montesa è Francesco non viene su dai 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 ma che roba Francesco ma un po' più di cazzo non ce l'hai dai Francesci ci fai fare la figura vieni su un po' più veloce cazzo andiamo dai non scendere tutto fermati lì vissù da qua ma cazzo devo provare non cazzo senza si alza venga non si si alza in piedi ma no si alza in piedi a tutte le palle non cazzo non cazzo si spegne non cazzo non cazzo non cazzo è venuto fuori il piede mi sono anche pestati i coglioni oh ah cazzo cazzo se ti pestano le palle perca trota ahhh chi mangia? Andrea Ivan Andrea dov'è quanto? ma va sarà le 11 io cambio toccato dagli da